Federica Rizzi, siamo a parlare di una sconfitta dopo la gara contro la Lazio, una sconfitta in cui il Parma forse è entrato in campo nel secondo tempo. Il primo gliel'abbia lasciato agli avversari. Ma sì, direi che non è che siamo entrati nel secondo tempo. Secondo me magari il primo abbiamo cercato di giocarle di più, però abbiamo purtroppo subito gol su una disattenzione, su un dettaglio e questo ci ha un po' frenato. Al secondo tempo siamo entrati invece con la grinta giusta, con la cattiveria giusta e probabilmente è quello che è mancato. Un po' di cattiveria in più e basta, però penso che possiamo essere contenti comunque della prestazione. L'ho chiesto anche al mister, chiedo anche a te come hai visto dal campo il potenziale rigore che abbiamo avuto. Sinceramente io non l'ho visto, nel senso che era una posizione tra le per cui non ho visto l'impatto, però mi sembra che le mie compagne erano abbastanza convinte che ci fosse, quindi io mi fido di loro. Però purtroppo è così, il calcio è arbitrato da un arbitro e a volte può anche lui commettere degli errori. Questa partita toglie qualcosa, secondo te, a quella che è stata l'ottima stagione dal mio punto di vista del Parma fino adesso? Ma no, secondo me no, come si suol dire dalle sconfitte si deve imparare, quindi secondo me questa è una sconfitta da cui noi dobbiamo imparare, dobbiamo portarci a casa il fatto che comunque abbiamo lottato alla pari, anzi a tratti, anzi penso nel secondo tempo, abbiamo fatto praticamente solo noi la partita, quindi questo ci deve dare consapevolezza ai nostri mezzi e il fatto che possiamo veramente fare ancora di più, quindi assolutamente non ci toglie niente, ma anzi ci deve dare ancora più carica. Carica per la partita di Cesena, partita importantissimo perché è il secondo, il girone di ritorno, bisogna iniziarlo alla grande. Esatto, esatto, un'altra sfida praticamente al vertice perché comunque anche il Cesena sta facendo molto bene, sarà una sfida difficile, stanno andando molto forte e ovviamente chi ben comincia è a metà dell'opera, quindi insomma dobbiamo cominciare bene il girone di ritorno per fare più punti rispetto a quello ad andata. Ciao Federica, ti faccio una domanda non semplice, tu pensi che il Parma potrà vincere questo campionato? Beh, noi dobbiamo esserne convinte, dobbiamo pensare positivo, credere in le nostre capacità, in i nostri mezzi perché abbiamo dimostrato che comunque possiamo giocarcela con tutte e quindi assolutamente sì, dobbiamo essere convinte noi prima di tutto, prima di poter convincere poi anche gli altri, quindi assolutamente sì. Quindi questa battuta d'arresto vi riempie ancora di più di forza e di orgoglio per affrontare questo girone di ritorno tutto d'un fiato e portare a casa la vittoria finale. Esatto, esatto, come ho detto prima insomma comunque dalle sconfitte dobbiamo imparare, ci sta comunque, era uno scontro diretto, il primo in classifica come noi, quindi si può vincere, si può perdere, si può pareggiare, l'importante è quello che rimane, quello che noi abbiamo dato in campo, abbiamo dato tutto, quindi dobbiamo portarci a casa il fatto che potevamo forse dare qualcosa in più e quel qualcosa in più poteva portarci alla vittoria e basta insomma, quindi siamo tranquilli e dobbiamo solo pensare al nostro percorso che deve andare avanti e essere positivo. In bocca al lupo. Crepi, grazie.